Ciao cari amici e benvenuti in un nuovo episodio di Ultimate, oggi vi mostro le manifestazioni che si stanno tenendo in Spagna, 130 mila spagnoli che si sono riversati in piazza a chiedere le dimissioni del ministro Mazzon per la gestione che ha tenuto durante tutta la fase degli aiuti e dei soccorsi durante l'alluvione che c'è stata a Valencia. Le immagini che andremo a vedere sono veramente spettacolari, spagnoli uniti, coesi come non mai e mi raccomando ragazzi massima condivisione, come al solito ci vedremo a fine video per i commenti, per confrontarci, dividete con gli amici il video e iscrivetevi al canale. Grazie. 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 Grazie.